Sono io! Ciao tesoro, com'è andata? Ho lavorato a pranzo e ho fame. Che cos'è? Torta capovolta all'Ananas. Buona! Mi ricorda la torta che la tua ex amica Bree aveva portato a una cena? Già, non... mi ricordavo. E ovviamente quella non l'ha fatta Bree, dato che non la vedo più, perché so che cosa provi per lei. Quindi questa da dove verrebbe? No... Fatta io. Davvero? La donna che ordinava al cinese per Natale ha fatto una torta capovolta all'Ananas? Beh, non è difficile. Si prende qualche Ananas e si capovolge la torta. Ma lo sai? Questa sembra così buona che mi... che mi piacerebbe che tu me ne facessi una uguale. Adesso? Certo! E mi siederò e ti guarderò mentre la prepari. Bene. Non c'è problema. Prima devo prendere un po' di farina, perché non si può fare un dolce senza farina, giusto? Oh no, mi è caduta tutta addosso. Forse dovrei levarmi questo colfino. Ma perché tu ed io non ce ne andiamo su in camera da letto? Fai la torta! Però, hai davvero molto a fame. E va bene, lasciami andare a rinfrescare. E' la prima volta. Grazie a tutti